Buongiorno e ben ritrovati. Dal 1 luglio 2022 anche i soggetti forfettari saranno obbligati ad adottare la fatturazione elettronica. Non è una novità che sorprende, lo si sapeva, come è noto dallo scorso 13 dicembre, l'Italia è stata autorizzata ad estendere la fatturazione elettronica anche verso questi soggetti, onde per cui si attendeva già in realtà da mesi questo provvedimento che per l'appunto con il decreto, PNRR2 si accinge ad entrare in vigore fra qualche mese. Non è una novità che interesserà peraltro solo i soffettari, ma come potete anche vedere dalla norma interesserà tutti quei soggetti che erano financo e esonerati, non dico esclusi dalla fatturazione elettronica perché per il settore sanitario rimane tutto invariato almeno per quest'anno, ma sicuramente per quelle tre categorie contenute nell'articolo 1,3 del 127 fino al 30 di giugno esonerate, ma anche dal primo punto di luglio non lo saranno più. E quindi mi riferisco ai forfettari, ai soggetti di vantaggio, meglio noti come minimi e poi direi anche alle associazioni, quelle che adottano la 398 per intenderci, che come sapete sono esonerate fino a 65.000 euro di ricavi nell'anno precedente. Ecco, questi soggetti quindi dal primo luglio obbligatoriamente dovranno emettere fatturazione elettronica, ma non è solo questo l'effetto che deriva da questa novità, perché come potete anche ben vedere, il comma 3 bis del medesimo decreto giudattivo 127 sulla fatturazione elettronica, come sapete, vive di luce riflessa del comma 3, onde per cui l'eliminazione dell'esonero per la fatturazione elettronica trascina anche l'eliminazione dell'esonero dall'esterometro, onde per cui ecco tutti questi soggetti, anche di ridotte dimensioni, come ben noto, dal primo luglio dovranno misurarsi, quindi non solo con la fatturazione elettronica, ma anche con l'esterometro. Più nel dettaglio, se vogliamo, gli effetti possono essere così riassunti, formato appunto della fatturazione elettronica, dove il soggetto si è obbligato ad emettere fattura, rimangono ovviamente invariati i casi di esonero dell'articolo 22, con l'eventuale obbligo del registratore telematico, però sicuramente verso i residenti, che questi soggetti appunto hanno l'obbligo del formato, quello XML, quello ben noto ai contribuenti ordinari fino al 2019. Verso i non residenti ovviamente rimane invariato l'esonero, non sarà obbligatorio come per gli ordinari, nemmeno per i forfettari, però di conseguenza abbiamo detto laddove si rimanga in fatturazione analogica, ci si dovrà poi misurare comunque con la comunicazione ai fini dell'esterometro, salvi i noti esoneri tipo esportazioni, perché c'è la bolletta, o anche importazioni per il medesimo motivo. Effetto conseguente anche la modalità nell'assolvimento dell'imposta di bollo, non più contrassegno sulla fattura cartacea, ma essi elettronico, con la modalità quella del versamento trimestrale, per la verità anche ben gestita dall'agenzia di entrate, con le procedure appunto, quelle telematiche nel portale fatture corrispettive. Non cambia nulla per gli acquisti, diciamo in reverse charge, non cambia nulla, ma facciamo attenzione perché magari spesso si sottovaluta che questi soggetti, pur essendo fondamentalmente esonerati da un po' tutti gli adempimenti, tranne i suddetti obblighi di fatturazione, sono comunque dei soggetti passivi, lo ricorda bene la circolare 10 del 2016, laddove dice che comunque negli acquisti in reverse charge, anche questi soggetti sono tenuti ad applicarlo, poi non avendo diritto la detrazione all'IVA, si trovano anche a versare effettivamente l'imposta con il modello F24. Quindi in particolare attenzione per tutti gli acquisti da non residenti. Gli acquisti da non residenti, come le operazioni attive abbiamo detto, comunque dovranno essere comunicate anche ai fini dell'esterometro, per cui alla comunicazione di un acquisto da non residenti evidentemente c'è da attendersi che poi ci sia anche un versamento con F24 della relativa imposta. Questo per tutti gli acquisti da non residenti, se vogliamo l'unica eccezione è rivenibile gli acquisti intracomunitari di beni, perché come è noto l'articolo 38,5 lettera C prevede un esonero dalla configurazione dell'acquisto intracomunitario fino a una soglia di 10.000 per una serie di soggetti, tra i quali anche i soggetti in franchigia o meglio i nostri forfettari minimi. Quindi attenzione, si va ben oltre la fratturazione elettronica, si va verso un sistema che in realtà obbligherà i soggetti a far molta più attenzione anche sugli acquisti da non residenti e penso in particolare a quelli fatti su internet che spesso e volentieri formano oggetto di fornitura da parte appunto di soggetti non residenti. dovranno valutare bene questi piccoli operatori se sarà opportuno o meno fare acquisti su internet, se sia magari più conveniente di lottare con un acquisto autarchico nel negozio sotto casa per evitare magari complicazioni che diversamente credo i singoli difficilmente riusciranno a gestire. C'è un mini regime transitorio, se volete, nel senso che per i primi tre mesi applicativi, quindi luglio, agosto e settembre, la fatturazione che comunque dovrà rispettare i rituali termini, 12 giorni per l'immediata e 15 mesi successivo per la differita, non sarà sanzionabile se sarà comunque onorata entro la fine del mese successivo al momento di effettuazione. Ispirato questo periodo transitorio, ovviamente tutti a regime salvo, ecco questo però lo dovremo verificare nella versione poi che andrà ovviamente anche convertita in legge del decreto, probabilmente un mini regime che manterrà in esonero da obbligo di fatturazione elettronica, quindi tutto quello che abbiamo detto, i soggetti con un fatturato, si parla di 20-25 mila euro, vedremo cosa ne uscirà nella versione definitiva di questo decreto. Sicuramente l'amministrazione finanziaria, questa ultima riflessione, fa un grosso passo in avanti introducendo questo obbligo, credo anche forse verso le precompilate perché poi qui a tutti gli effetti il quadro LM e l'amministrazione finanziaria riuscirà a metterlo a disposizione perché in effetti a parte le complicazioni legate agli acquisti in reverse charge, ma questi soggetti sostanzialmente non hanno addimplimenti particolari e quindi probabilmente le precompilate per questi soggetti saranno destinate in futuro a funzionare. Bene, con questo ho finito, vi saluto e alla prossima occasione. Grazie.